...sangue, che miracoli fa l'olio Dante? L'olio Dante è il mio segreto, ogni cibo trasforma in bontà. Col suo gusto fragrante e squisito, è un augurio di buon appetito. Dal più grande, dal più piccino, tutti d'accordo, che bontà! Olio Dante è il mio segreto. Come ha detto? Ho detto olio Dante. Che bontà!